non so è david che c'è il computer a carbone come le messe questi verso che ordine perché c'è un buco di base dato che appena esploso acqua e pensavo di là allora scusa metà così di là squarmo e ne fai 20 no adesso di violento amore chi già la situazione difficile cazzo mi fai mangiare le gel bacche che non serve a un cazzo no ti scende il torpore quando mangi guarda non lo sapevi che ti scende sì ma devo stare quattro mesi a mangiare come un ingozzarmi come un maiale morto tanto c'è il cibo basso ti ho fatto un favore perché c'è un animale che vola non lo so vabbè che non si attacca sta cosa sta fondamenta al muro dio delle città e dell'immensità mi serve un soffitto aspetta che spacco la menta metto un soffitto dai che serve svegliarti su ma la fine storia è fertilizzante eh non lo so non lo trovo aspetta però noi abbiamo craftato solo i pestelli ss giusto non è che bisogna craftare un pestello normale non lo so proviamo dendarlo nuose ok finito i soffitti gli manca la pietra ci sarà un po di pietra nel golem e in un armadio c'è un po di pietra ma usa il tastino scusa eh in un armadio c'è non mi viene in automatico ancora non ci posso far niente sono quanti mille mila ore ci ho giocato senza far ricordi pescarlo craftato eh prova repellente no no sale a conservare ma secondo me va sbloccato o non ce l'ha sbloccato eh porco dio fertilizzante non me lo dà ma spero dove cazzo è io eppure una volta l'ho fatto si l'ho fatto si ma cento anni fa l'abbiamo fatto concime concime? non si chiama riflettivizzante si chiama concime e dove si va? in mano di fondo di questi semi una volta stato si ma non ti dice dove l'ha craftato in mano fertilizzante, fiore raro, ingoraro, petrolio e polvere pierica fertilizzante ce l'abbiamo? devi fare un cesso concime ma non ci fanno ok ci manca il fertilizzante, dobbiamo cagare eh, dico sul cesso, c'è il metallo e l'acqua allora, cesso bagno ahia mi sono andato a fuoco da sola madonna sparate quell'argentavis non è su bagno c'è cabucci gabinetto si, tutto qua ma perché non atterri mai? tu hai sempre quelle ali di un uccello che rompo di quelli metto il contenso eh, c'è tutto, porco dio perché non lo fai? scusa è spento il toto che cura le uova è bellissimo ho capito e perché non me lo fai se contiene tutto? dove lo stai facendo, scusa? aspetta in mano si crafta? no, si crafta il banco da lavoro e non so perché me lo fa vedere anche in mano comunque cesso che vuoi di mano? ah, il cesso io, scusa, pensavo al fertilizzante per noi un tubo e questo e questo buono, che è che viene a cagare? sono qua io perché io si guardo il frigorifero e mi apre il generatore? che cazzo c'hai? arrivo? ho tre uova a dito dove lo metti via arrivo? io tanto devo piazzarlo ma a sinistra, a sinistra di dove vuoi mettere? allora sei un giro che puoi mettere la muta c'è le belle chiappette al vento non è male che ci voglio di spararne un danno io che ho sbagliato a togliere il soffitto mi son buttato in acqua non è caldo non particolarmente cinque sei otto pronta? la rosa dei guanti per cagare adesso qual è? ti e esegui gesto esegui gesto sarà? ah come esegui gesto non scondi cappello insulto no perfetto ho sbagliato aspetta mi serve uno di paglia è la faccia più lunga gallo? fischi attacco ma scusa non sono più cagare è la faccia più lunga? un attimo sta arrivando un attimo non capisco un secondo basta il ragazzo scusa no non c'è più cacca scusa allora eh ma quello che mi chiedevo io non era meglio metterla da qua che andava coperto dritto così? dall'altra parte eh di qua ho fatto uguale poi adesso a vedere sono una scambia di qua ho fatto così ah qui sul pc non si può ha detto franco mi so scusa ma il cazzo è il cazzo sul pc ma come lunghezza va bene? si si no no va bene vedrà farla anche più lunga no vabbè ah ma tu non si ma no si eh no se riesci a farla così siamo più comodi ad entrare secondo me sono seduto no perché non si siede? non lo so non lo so mi dà bloccata però provo a sbloccata un gabinetto bloccata no comunque ci deve essere proprio un tasto apposta per cagare mi sembra sai perché non ci arriva l'acqua? c'è l'acqua nel cesso io mi siedo ma fa tipo una roba strana va bene va bene va bene va bene Cazzo, sono riuscito a sbagliarle tutte e due? No, questo è giusto. Allora. Eccesso acrobatico. Eccesso acrobatico. No, come ci arrivi se non ci metti una scala? No, mi piaccia di diventare. No, siediti. Siediti che mi hai detto bloccata. Attenzione! Eh, ma la torna è tirata l'acqua da qua. Vai sotto. Vai sotto. Riesce da sede alimentario? Aspetta, no. No. Riesca a metà cambio obiettivo. Mi segui il gesto. È di cacca non c'è, non c'è. Ma guardate nei comandi, magari c'è proprio il tasto caga. Allora, opzioni. Comandi. C'è tanto il buio piazza. Grida, shift B. Sussurra. Chat tribù. L'assaggiato. Testo no. Fischino. Sì, mi stai. Attacca. C'è questo. Freno aereo del dinosauro. Non ho idea di che cosa sia. L'ho visto e ho detto, ma che minchia è. Freno aereo del dinosauro X. Imposta gamma, valore gamma, valore gamma 2. Accessori arma, creas note. Giro a sinistra, ricarica, utilizza, damma, pistola. Defeca add. Defeca facciamo virgola. Ma non avrei più l'attacca. Facciamo una virgola. Non riesci ad accederci allora? Sì, adesso sì, accederci in mente. Ok. Virgola. Aspetta, aspetta, aspetta. Che tandem, eh? Ok. Sì, ma che tandem? Aiuto. Ho leggermente paura, sai ste? Ah ne, pensa. Tra un 30-40 anni dovrei farlo davvero, sta roba insieme. Tanto ci sono gli osse. No good. Ci sono gli ossi. E' ancora più comodo della play fare sta cosa. Allora, bisogna andar di là e vedere come si craftano sti cazzo. Beh, dov'è? Perché ogni volta che io passo non c'è mai la rampa. È sempre a casa. Cioè, è la quarta volta che c'era da rampa e non c'è più. No, vabbè. No, ma tu non devi vedere che situazione c'è qua. Attento, qua fa il saltino sull'ingresso, eh. C'è un buco. Ah, sì, ho visto. C'è un buco. Stava dando il fertilizzante, no? Sì, sì, 46. Potevamo andare avanti ancora tanto? Vai, vai. E quante ne devi fare per fare un ray fertilizzante? Uno. No, aspetta, 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 aspetta. Allora, intanto facciamo quello della serra che verrò. Aspetta che ho perso il... Che cazzo. Anche perché Vani è la detta. Ok, vai. Dai che buttiamo giù quelle viverne che io domani voglio andare in giro in viverna che mi sono rotto il cazzo di Stroho Argentavis. Allora, vieni a vedere... Sta arrivando però... Il cesto acrobatico. Il mio computer ha deciso di scollegarmi l'hard disk da solo. E c'ha la mamma puttana il mio computer. Non si può cagare acrobaticamente. Non si sa. Qua, nell'angolo di Cidi Portoni. Ah, eh non vi vedevo. Perché c'è lì sopra? Che cesto acrobatico. Perché non me lo prendeva a livello del terreno. Ah. E allora ha dovuto fare il cesto acrobatico. No. Beh, ho finito? Buon, basta, basta. Basta. Continuai? Un po'. Non mi fa contà. Vai, te lo fa bene a tutti. Oh, oh, la vado. No, dobbiamo mettere su la serra per creare quei portoni lì. Cosa è? Eh, serve il limo nedro, lungherba, saporadice, sassarota. Sì, è complicato. Bisogna fare i dynamic gate. Ma che con la frutta è dura, questo ti ho capito. Non lo so, non lo so, non lo so. Beh, giusto, giusto abbiamo fatto del fertilizzante. Metti giù 3-4 prodi. No, la merda no, grazie no. Mella panzata. Pallina di merda l'ho mangiata. È insacchiettata sì, così sciolta no, eh. È una vera merda sfis. Sì, già c'è l'orso che caga dalla pancia. Eh sì. Con il cime. Ah sì, madonna quante uova sti d'oddio. Devo continuare a raccogliere le lasciarli, ci faccio la frittata. Ah, porco Dio. E io e me, baby, innato. Ma... So, letto, mi like to do a non-discover which channel. Quanto vecchia sta canzone. Ah, lot. Lot. Che è paradosso X? E' Yuri. E' Yuri. E' Yuri. Ah, arco Dio, non abbiamo i fiori raro. Vabbè, dai, l'ho fatto i due. Come no? Guarda dentro la... L'ho fatto i due di fiori di... Cazzo. Perché mi ha scritto... Aspetta, cosa ho... Gallo, ma la mappa sul server qual è? Ragnarok. Io non so chi è sto Yuri, però, perché parlo degli sconosciuti. Che poi sarà un altro genio come quell'altro. Allora, butto dentro. Attiva! Vai! Mettete le uova di viverna! Tutte. Tutte. Anche lo dico è lo merda. No, quelle di me lo merda sono per le kibble. Kibble. Allora, questa qua è 60 no. 25 no. 50 no. Con la texu idem. 160 sì? Sì. Sì. Ok. Ah, e ci sta anche sentendo, quindi l'ho insultato e ha detto... E ha capito che parlavo di lui. Bene. Però, però, sei stato fortunato, ti ho insultato poco stavolta. Io non lo so. Non come al solito la gente. Scrive lui. Ebbè, non usare, scrive e basta. Lui non ci parla perché ci odia. No, perché non può parlare, non ha le corde vocali. Quante scuse per ora. No. Ah, c'è dell'inventario. Ok. Sono solo di fuoco quelle che hai trovato buone? No, c'è ancora di lino. Era solo... Perché non me le metto dentro? Allora, una fuoco... Le devi mollare per terra. Le raccoglie lei. Quindi, ah, devo lasciarle con la O? Troppa. Sì. Mettarle per terra. Chiedo mio di farla minchia. Ma sì, ma sto dato messo in sta posizione è abbastanza... Va nè. Va nè. Dai. Ma tu devi vedere cosa sta facendo. No, ma io lo so perché io non te lo dà. Ecco qua, questo non va bene. Così? Devo farle così. Come se dovessi far chiudere. Ma vicino così? Sì. E le raccoglieva solo. Troppo freddo. Se le raccoglierà, se lo avviavate dopo aver mollato le uova, le raccoglieva subito, subito. E adesso... Ah, disattiva, reattiva. No! Che gli amici... Non l'ho fatto niente! Non lo fare. Perché se no ti consuma un altro refertilizzante. Tanto ce n'è un altro refertilizzante. No! Non lo fare! Stai fermo, non so caldo. E' bella, Sè! No! Guarda che belle! Non c'entra un cazzo con le uova che gli è andato, però sono belle. Vedi? E adesso dentro cominciamo a farle cadere giù. Incubazione 92. E... F... Putta quell'altro di veleno, quella che è? 165, 165, 160. Non ho vista quella veleno alta. Vabbè, bisogna buttare giù le prodi, porca puttana. Ne ho presa una... Facciamo le prodi, lo facciamo. E allora, la lampa tutta dirà fatta. Ah, 165? Sì. Sì, non l'avevo proprio vista. Una fuoco è mia, che io non voglio veleno, che ha le orecchie. No, le orecchie. No, le orecchie. Le orecchie. Le volete non usare un argento, però per me è uguale. Cazzo, la prod è come la... come la chiama adesso, qua? Prop. E fai le SS, che ce ne stanno di più. Rialzo con... Guarda, a te non ce la faccio più di gente che mi wispa oggi. Large cop. Una... Due... Quante... quante sassamiche ci sono? Tre? Stanno quattro, una per tipo e fine. Quattro. Ecco, manca un soffitto. È la fondamenta, cose che capiscono. Siamo soffitto. Basta. Andiamo. È andato al top male, bisogna farla di paglia. Ecco, infatti, pensavo che arrivasse la... Sfruttasse una roba di impaglia. Adesso la faccio. Facciamo una roba. Facciamo una roba. Non la togli, davvero. No, è il tubo. Raccoglio. Allora, cinque. Sì. Posizione, adesso, attacqua, dove? Uno, cinque. Amore, ce l'hai ancora? Due aracchini di lì là o le finte tutte? Uno ci sono. Mi venga, prendo un paio. E cinque. Arrivo. A posto, riparato, Giba. È perfetto. È anche bello la paglia qui. Vai, metti i semi di che... Bella. Metti i semi di quello che vuoi. Metti i semi di quello che ti serve. Tutto. Allora, questo e fammi fare uno di questo. Metti i semi di tutto che è... E io ci ho fertilizzato dietro. Non li ho. Guarda, la serva è direttamente sopra... Un pezzo. Un pezzo da fare. Bellissimo. Ma erano tutti dentro la mangiatoia, Giba li ha buttati via, perché è un coglione. Eh, ma che perché era piena di semi e basta. Adesso vai a cercare i semi. Che due coglioni. Io ho già riparato una fondamenta, sono stanco. Sono stanco. Io sono tutto ciucciato dall'acqua. Eh, infatti tu hai. Sì. Guarda, ha già finito, eh. Si possono buttare giù. Due condizionatori. Come ha già finito? Come ha già finito? Eh, sono già pronte da mettere giù le uova, eh. Eh, quanto cazzo è veloce? Ha già finito, sì, cazzo. Eh sì, è velocissimo quel coso. Allora, condizionatori. BORCA DIO! Sono dentro la... No, ho schiacciato la E. E? Allora, condizionatori SS, qua ce ne sono due, ne faccio altri due, non basteranno mai. Mi finisce di scaricare una mod che non so che mod sia. Sette condizionatori spero che bastino, non credo. Abbandono anche. Vabbè, ho attivato la Rennie, eh. Quindi non toccatela. Non palpate l'anemi. Condizionatori devono essere in casa, però. Non lo so, boh. Sì. Eh, dove cazzo? Eh, spacchiamo un muro e li facciamo uscire, cioè. Non possiamo metterli fuori, ma metterli fuori e attaccati sulla piattaforma qua, dai, dove c'è Mattarella. E c'è Mattarella. Vabbè, io ho rubato il banco di chimica. Come hai rubato il banco di chimica? Hai rubato il banco di chimica. Dai, mettilo qua da Mattarella i condizionatori. Ah, sai. Sei. Spera che sforzo sti cosi, che danno fastidio. Che belli condizionatori che si mettono a posto da soli, parca madonna. Che, potrei metterli anche uno sopra l'altro, magari, però, vabbè. Ti metto, d'accordo. No, vabbè, vabbè. No, no, ormai mi hai dato, adesso lo raccolgo. Sì, metti tutti sopra uno. Adesso faccio una, 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 una torre. Un per sete. No, quella così, dai. Eh, me l'ha messo, me l'ha messo. Allora, chi vuole la veleno? Ah, prendo io, prendo io la veleno, prendo io la veleno. Perché così, vabbè. Prendi la veleno, prendo io. Sì, è già passato lo schiuso. Sì, è arrivato. Donna. È già nata. Sì, è bellissimo. Nome, nome, nome. Allora, questa è mia. Io voglio brasca. Un cucciolo di anchilosauro? Io non te l'ho messo, il cucciolo di anchilosauro. Dove l'altro? Eh, adesso la mollo. Ah, aspetta, arrivo. Cento. Dai, porca miseria, quanto l'è? Settantacinque. Madonna marrone. Ne ho un'altra. Brasca. Vane, vieni. Eh? Vieni qua. Ah, scusate. Andando a far dell'altra. Imprimisci sta a vivarna. Imprimisci. Oddio, mi ha lanciato l'uovo addosso e mi sono affrontato. Vane. Eh, su qua, su qua. Madonna. Eh, ne gode. Ma sono stato il parosauro e sono uccido, Mattarella. No, porco, due. Eh, si è buggata insieme all'altra. Adetta che me l'aveva fatto via. Ma quanti ce ne sono? Due? No. Eh. Vai. Fatto. Sei fatta a imbrindarla? È femmina, farà cagare sicuro. Allora, Brasca, 273 di danno. 6.315 di danno. Ma 101 di danno. Va bene, va bene. Intanto devo fare uova con questa, quindi. 6.93 di stagno e 8.315 di danno. Siete sicuri che si può fare uova con quelle? Ma non che faccio accoppiare, faccio le uova, vado a fare uova. Ah, ok, ok. Comunque sì, si possono fare accoppiare. Ah, ok. 3.43 ero di danno. Ero sicuro con quelle di Crystal Island, ma non... Non di male, 3.43 di danno. Ma perché si sono inchiarate tutte? Perché è così stupida? Ma tanto va, ne ama. Eh? Tu hai la frusta, giusto? Eh. Allora, i semi, raga? La puoi portare ovunque, eh? Eh, adesso ti mostro il raggio. Allora, show range. Ecco, dentro la cupola blu. Va bene. Siamo dentrissimi, allora. Che voglio. Che è che riesce a fare? Solo mettetela sulla sabbia, che così non si inchiana. La mia vola. Sì, ma questo che in 0.2 ha abbassato la schiuse delle uova, c'è... Il raggio blu è enorme. Eh, metti che devi fare 3.000 giga, 8.000... Colpa mia. Ascolta, visto che ci mette un cazzo così, vado a darci un'altra uova? Eh, sì, perché io la devo ancora fare. Se vuoi, crea pod 2.000 giga e vengo lì. Vale, io prendo l'optera. Aspetta, allora. Minchia, è lunga però. Io voglio i semi. Qualcuno ne vado a fare semi. Cantiere, io avevo tenuto i semi là dentro. Avete tolto voi la cassata cantiere? Boh, no. Boh, no. Allora, dentro a cavallo metto il fertilizzante e tutto il resto. E anche un banco di chimica, quindi... Che è l'ordine, è la prima cosa. Andiamo a dire, andiamo a dire un di semi. Comunque ci sono anche dentro la prima... Che c'è? No, niente. Allora, cambia. Dentro la prima... Prima volta dove ho perso i semi. Beh, a me. Arriva, arrivo. Vado a prendere la crea pod e la carne. Fate, puoi arrivare a piedi col giga fino a... A parte che non so se c'è un altro giga wild, quindi occhio. L'unico giga che ho visto era sul deserto. Non so se spuole nemmo da... Non c'è la mattanella. C'è uno vi raptor fuori dalle mura. È un pericolo importante lo vi raptor. È sempre un nemico. Se qualcuno riuscirebbe a far uccidere... A morirci. Madonna, che rincoglionito del ca... Scegliamo dalla gabbia? Eh, sì, ci vediamo là. Adesso mi... È colpa tua, Giba. Non è vero. Non so che... Sì. Io non lo conoscevo, l'ho conosciuto tramite te, quindi per me è colpa tua. No. Sei vero o mai o giusto? Goddio, che laggata. No, io adesso veramente prendo il computer e lo distruggo. Lo smantello. Oddio... Adesso mi compro un cuscino antidecubito suo, ma non giuro. Sì, va. Compro un cuscino passaggiante per la città. Cuscino antidecubico. Quello che non aumenta il lavoro. Che non puoi aumentare le cose. No, 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 no. Lo metti sotto il culo a Gesù e non gli viene il miracolo dei panni e dei pesci. No. Fatal Error viene fuori. Fatal Error 33. Io sono qua, eh, Rame. Eh, sta arrivando un attimo. Madonna, l'occhio dell'optero. It's the eye of the terror. Ma sto vedendo da... Si vede l'occhio dell'optero. Dupi. Sul mio pc, vieni di qua a vedere. No, ti prego. No. Manda la foto, che è prima, no? No, non puoi capire. Manda la foto. Non puoi capire. Si muovono le biglie. Si muovono le biglie. Guarda, si muove l'occhio. Sì, sì. Sensissimo. Fa sesso. Fa sensissimo. Che cazzo fa sesso? Non so dove va. Il cazzo negli occhi per non vederlo. La cieco cazzate. No, ci vedi che da sordi. Comunque erano tutte uova vecchie, fighe. Sono nate tutte color merda. Allora, io sono andato a gabbia. Pieno più avanti. Eh no, posso volare. Dove avete messo il fertilizzante, stronzi? Dentro il cavallo verde, fuori, quello con dentro il banco di chimica. Questa porta va. Cosa lo chiamo? Walter White, sto cosa, sto cavallo. Mi chiamano guai, fighe. Eh, c'è una sfiga. C'è una fighe. C'è un tecchino, fighe. Allora, prima fulmine, vediamo. Perché sì, io ce lo trovo. Non lo trovo? Bella. Ne voglio un ovis. Se mi serve la spelliccia, mi serve. 170. Ma si è poi trovata la mia lontra, no, vero? No. È vero la lontra, Davide? Dove mi inchiarificata? Ce l'avevo io addosso. Ok. E fino a lì? Ecco, quando sluggiamo il rame. Il rame? Qua, 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 sulla destra. Porca Dio, sulla destra no. Eh, vai, vai. Rame, va, cazzo. Dritto, 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 dritto. È vero la lontra, rame. È proprio la fulmine. Ecco, viena, 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 viena. Vabbè, è già arrivato il momento di craftare il cerca animali. E' arrivato il momento di GPS per bambini. Tu vuole il micro fulmine, Carlo? Sì. C'è un uovo. Eh, vabbè, però ho già imprendato una cosa. Eh, vabbè, ma niente. Questo è il livello 20. Mi metto qua io, eh, sta? Sì, fermo la tica. C'è un uovo. C'è, ovvio. E comunque è già giovane, eh. La viverna. Giga. Madonna. È il 10%. All'11%. Ah, comunque la cosa lì della tipa che ti cresce i guzzoli è tonica. Facciamo un uovo di giga tra i due maschi. No, vabbè, uno è problemi, non lascia stare. Ma poi è castrato, poi. Ma è castrato! Eh, ma infatti lui... Tu pensa che c'è una cosa che si chiama Tech Mutator che può cambiare spesso gli animali. Ma cosa? È vero. Sì. Comunque che ricordi, no? Oppra Blankator. Rimani lì, Rambi, eh, che... Sì, sono appena... Appena esce dal copo di... Che è andata di lusso, adesso. Forse ho trovato l'uovo di quella che aveva appena ammazzato, infatti. 20 era. Che ricordi in questa mappa, comunque. Che ricordi in tutte le mappe. Ah, a casa proprio lì davanti. Non arriva nessuno. Ma che stiamo scherzando? Ma quanti cazzo ne ha fatto? Eh, vabbè. Cosa? Chi? Cosa? Dove? Quando e perché? I... I... I rock drake. Fica, sono uova fuori, eh? Stasera. I rock drake. Magari ricordo la base è un po' in ritardo, porca puttana. C'ha tanti di quei rock drake che... Boh, non ce l'avevamo mai avuti noi, quando ci siamo messi a tagliare la fascia cazzo. Perché le ha copiati. Bene. Madonna. Le ha copiati. Ci deve essere... Forse adesso non si può più, ma con la moda che c'era prima, dei volatili, si potevano accoppiare. I rock drake, Filippo. Sto trovando solo uova fulmine. Beh, va bene. Ragazzi, davanti alla base nocice... 155. Eh, va bene. 155 fulmine iscrivibile per fare uova, eh? Ah. Solo stamina. Siamo ora uvarola, e via. Solo stamina. E quella da peso. Quella da viaggio. E quella da paglia. Un'altra fulmine. Oh, tutte fulmine, un'altra. Ma non c'è nessuno ieri, eh? Cioè, tu stai prendendo uova verde, ma non arriva nessuno? No, c'erano solo quelle due lì. Non è passato qualcuno a svuotapriva, ma non c'è nessuno. O mi arrivano adesso tutti insieme, e mi servono la tortera. Allora, se venite qua a prendere ste due uova... Però la 155 la voglio riprendere io per fare uova. Perché con la fulmine sono tranquillo. Io intanto c'ho... Io intanto ce n'è una, e mi basta, e avancio la fulmine. Però solo tramite... Eh, viene a prenderla qua, che si schiude, eh? Puoi fare solo fulmine fulmine? O puoi fare fulmine veleno, e poi va... No, 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 non puoi fare un mutante, G. No, non dico un mutante, però viene a X... Fulmine velenoso. Viene a X tipo la cosa. Allora, aspetta, Rame. Gallo, se vuoi, viene a prenderti luogo. E perché? Per schiudermi fulmine. Ok, arrivo. Non ho visto la mamma, quindi non so che colore. Non mi interessa, G. Però se l'ha scrivito, sappiamo già. Marrone. Ecco il giga. Marrone, però marrone e fluo viene fuori. Non mi interessa. Minchia, ma quella volta ti ricordi? Non ho visto, ma blu, marrone. Con il giga. Ho cercato la montazione marrone. Con il giga si è rimasti tutti increduli, non era possibile. Ma aspetta, vado a fare impriting, G. Gagallo per un mese, eh? Dov'è a fargli impriting? Gagallo, ma l'hai scritto un mese fa. Il giga è eterno. Il giga è eterno. Minchia sugli ufficiali, che fastidio che è. Arrivano, Rame. Sono qua. Eh, eh, eh.